Buonasera, vediamo quali sono i titoli di oggi. Aveva rotto il naso alla madre e puntato un coltello addosso al padre. Dopo due anni di vessazione, i genitori hanno denunciato il figlio, arrestato a Riccione per maltrattamenti in famiglia. Il ponte di Pasqua porta tanti turisti in riviera, ma lascia l'ennesima polemica sul meteo. La Rinaldis degli albergatori pronta a chiedere l'intervento di Federalberghi Nazionale. Spese di giustizia, il sindaco Gnassi ha inviato una diffida al ministro Orlando per mancati rimborsi in tre anni. Per il comune di Rimini si tratta di una spesa annuale che si aggira in media su 1,2 milioni l'anno. Fervono i preparativi a Roma per la canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II domenica in piazza San Pietro. In tanti partiranno anche da Rimini. Conto gratuito per i ragazzi dai 18 ai 26 anni. Scopri vantaggi su Banca di Rimini. Ben ritrovati in studio. Come avete sentito dai titoli, sabato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Rimini. I carabinieri hanno arrestato un 45enne residente a Riccione disoccupato che da due anni maltrattava la madre pensionata di 67 anni e il padre di qualche anno più anziano. L'uomo era già stato arrestato in flagranza lo scorso 27 febbraio per il medesimo reato. In quell'occasione aveva rotto il naso alla madre. Avendo visto che il figlio, ritornato a casa dopo l'arresto, non aveva cambiato il suo atteggiamento, la madre lo ha denunciato e ha raccontato ai carabinieri gli episodi subiti. La donna e il marito, oltre ad essere percossi, dovevano sopportare i soprusi del figlio. Alla madre, per esempio, aveva cancellato la rubrica del cellulare, le nascondeva le chiavi di casa, danneggiava mobili, distruggeva piatti e bicchieri. Al padre aveva bucato le ruote della bicicletta e in un'occasione gli aveva puntato alla nuca un coltello da cucina. L'arrestato si trova in carcere a Rimini. E in gravi condizioni, a Bologna, il 77enne è rimasto coinvolto ieri sera intorno alle 20.25 nella terribile carambola tra tre veicoli sull'Adriatica, al confine tra Bellaria e Torre Pedrera. L'anziano era stato trasferito ieri sera al Sant'Orsola di Bologna, subito dopo essere stato stabilizzato. La delicata operazione a cui è stato sottoposto per la lesione cardiaca riportata ha richiesto infatti le strumentazioni del reparto di cardiochirurgia bolognese. L'uomo viaggiava come passeggero sulla Fiat Punto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con altre due vetture. Nell'incidente sono rimaste ferite altre tre persone portate agli ospedali di Rimini e Riccione. Si tratta di un 45enne e una 25enne che hanno riportato gravi lesioni ma sono fuori pericolo e un ventenne ferito in maniera più lieve. Per estrarre i feriti dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco e durante i soccorsi e i rilievi il tratto di strada è stato chiuso con pesanti ripercussioni sul traffico ancora sostenuto per il rientro dei vacanzieri. E a proposito, in Riviera la Pasqua ha portato un 15-20% di presenze in più rispetto all'anno scorso grazie anche alla migliore collocazione in calendario. Buona la percentuale di riempimento per i 1700 alberghi aperti sulla Riviera Romagnola, pieni parchi, 5.000 presenze in quattro giorni per la ruota panoramica di Rimini. Ma anche quest'anno il primo ponte stagionale lascia uno strascico polemico per il flop dei portali meteo colpevoli di avere annunciato rovesci smentiti poi dal clima che è stato generalmente sereno. Se l'assessore provinciale Galli parla degli scarsi strumenti a disposizione per risolvere il problema, Patrizia Rinaldi, invece dell'Associazione Albergatori di Rimini, è decisa a dire stop ai danni da previsioni sballate. Vediamo. Credo che adesso veramente bisogna prenderla a livello italiano, a livello di federalberghi. Cioè azioni singole non ottengono effetto. Però a questo punto io credo che sia un danno per tutta l'Italia. Adesso toccava l'anno scorso anche al Veneto, l'Emilia Romagna, adesso anche la Liguria. Andiamo a toccare effetti di economia importante. Però è un'azione che sicuramente dobbiamo portare avanti a livello italiano. Io infatti tra l'altro oggi una delle prime cose era quella di portarla proprio sui tavoli di federalberghi nazionale. Sulle azioni specifiche in mente non ho niente se non andando a vedere nelle maglie della legislazione cosa significa previsione, cioè fino a che punto uno si può spingere. Queste previsioni date a lungo termine, di una settimana a dieci giorni, quando si sa che le previsioni hanno validità di un giorno e mezzo. Ma molti, neanche sul giorno e mezzo, perché la mattina di Passo, il giorno di Passo, il lunedì hanno messo 7, quindi vuol dire che neanche su un giorno sono in grado di tutelare. Io credo che lì bisognerà dimostrare, non dico la non professionalità, ma sicuramente trovare un modo per definire queste previsioni, perché per noi sono state veramente pessime. Noi l'anno scorso abbiamo scritto insieme alla Regione, quindi la firmammo io e Melucci, una lettera a tutti i direttori dei principali siti, non solo siti internet, ma anche delle principali testate televisive, per sensibilizzarli su questo tema, perché se ricordate anche lo scorso anno ci fu una vicenda particolare proprio per la Pasqua, se non sbaglio. Di strumenti ce ne sono pochi, nel senso che sono tutti a rassicurarti sul fatto che le previsioni sono fatti in maniera professionale, che nessuno vuole mettere chiaramente in difficoltà zone territoriali piuttosto che altre, però è chiaro che è evidente che questa cosa si verifica ormai da un po' troppo tempo. Ripeto, non ci sono gli strumenti per, sono previsioni, basterebbe, poi parlando che con qualcuno di questi direttori proprio via voce, ci siamo anche detti basterebbe, quando c'è incertezza, mettere l'icona della previsione meteo sul variabile, perché ci vuole poi tanto. Il sindaco di Rimini, Andrea Agnassi, ha scritto una lettera al ministro di Grazie e Giustizia Andrea Orlando, con la quale diffida il Ministero affinché venga corrisposto al Comune di Rimini il saldo delle spese sostenute nel 2011 e gli importi relativi al 2012-2013 anticipate per la gestione degli uffici giudiziari. Per il Comune di Rimini si tratta di una spesa annuale che si aggira in media su 1,2 milioni l'anno. La decisione di non corrispondere ai Comuni quanto dovuto per le spese del Tribunale è inaccettabile, si legge nella lettera di Agnassi, se si pensa che tale decisione ha l'effetto della retroattività rispetto a quanto versato. Tutto ciò, continua Agnassi, ha aggravato in questi anni la possibilità per i Comuni di predisporre i propri bilanci in modo certo e pianificato ed espone gli impegni essenziali previsti per il sostegno al welfare e all'economia a continue revisioni e mancate risposte ai cittadini. E fervono i preparativi a Roma per la canonizzazione domenica in Piazza San Pietro di Papa Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II. Attesi centinaia di migliaia di persone e in tanti partiranno anche da Rimini. Ci saranno anche tanti riminesi domenica in Piazza San Pietro, il più vicino possibile per vivere la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. La messa in cui Papa Francesco proclamerà santi due suoi predecessori sarà alle 10 del mattino. Da Rimini tanti si sposteranno autonomamente in automobile o in treno già da sabato. Non ci sono biglietti di ingresso o pass perché, come ha detto Padre Lombardi, tutti sono invitati. E' attesa una folla enorme proveniente da ogni parte d'Italia e del mondo. In molti, spiegano dall'agenzia di viaggio diocesana Riminum, hanno deciso per viaggi singoli o a piccoli gruppi, proprio perché il grande numero spaventa un po'. L'agenzia non ha promosso pellegrinaggi organizzati. Chi non si è lasciato spaventare sono i membri della comunità Papa Giovanni XXIII, a cui il fondatore Donoreste Benzi diede il nome di uno dei nuovi santi. A Roma ci sarà il responsabile generale Giovanni Paolo Ramonda e almeno 500 persone provenienti da case, famiglie e strutture di accoglienza di tutta Italia. Una cinquantina partiranno da Rimini. In ordine sparso a Roma arriveranno anche riminesi che fanno parte di Comunione e Liberazione, ma anche di altre aggregazioni laicali e parrocchie. C'è chi proverà ad arrivare in piazza passando la notte alla ghiaccio su via della Riconciliazione. In diverse chiese di Roma la celebrazione solenne del mattino sarà preceduta da una notte bianca di preghiera. Alle 17 di sabato nella Basilica di San Paolo fuori le mura è in programma una veglia e per chi non riuscisse ad esserci fisicamente, Icaro TV seguirà la diretta dalle 9.30. Siamo alle notizie dei 100 secondi. Ieri sera i carabinieri di Miramare sono intervenuti in via Ariosto per una lite causata da un'auto parcheggiata male davanti a un bar. La barista, arrabbiata per il parcheggio selvaggio, aveva rigato con un oggetto appuntito la fiancata della macchina. In via Parisano ieri pomeriggio i carabinieri hanno invece denunciato una 28enne italiana per danneggiamento. Aveva diverto lo specchietto di un'auto in sosta. Si è conclusa intorno alle 15 la riparazione di una condotta in zona Le Navi in via Fiume a Cattolica che aveva impegnato dal mattino i tecnici di Iera per garantire l'erogazione anche durante l'intervento. È stata aumentata la potenza del pompaggio. I disagi sono stati limitati ai piani alti di alcune abitazioni. Banca Carim ha deliberato di mettere a disposizione dei privati per tre mesi, da maggio a luglio, un plafondo di 50 milioni per i mutui prima casa, con tempi di risposta entro una settimana dalla richiesta. I tassi sono vantaggiosi, assicura l'Istituto, con spread a partire dal 2,20%. Nel bilancio 2013 Carim ricorda che 350 milioni sono stati destinati a nuovi crediti verso famiglie e piccole e medie imprese e oltre il 95% della raccolta è stato destinato agli impieghi. Rimini Fiera annuncia l'arrivo di una nuova manifestazione, il Gluten Free Expo, salone internazionale dei prodotti e alimentazione senza glutine che terrà la terza edizione a Rimini dal 14 al 17 novembre, dopo le prime due a Brescia. Il Festival di letteratura per ragazzi, mare di libri, anticipa alcuni dei protagonisti dell'edizione in programma dal 13 al 15 giugno in Centro Storico a Rimini. Ci saranno anche Stefano Benni, Licia Troisi e Albert Spinosa. Torna a Saludecio dal 25 al 27 aprile Salus Erbe, tre giorni dedicati all'erboristeria, all'agricoltura biologica, all'alimentazione naturale, alle medicine alternative e all'ambiente. Il tema di questa 27esima edizione è tra cielo e terra. Uno tra i più classici degli appuntamenti di primavera nell'entroterra romagnolo torna con la formula collaudata di mercatini, laboratori, workshop dedicati all'eliminazione degli sprechi al fai-da-te, al benessere e alla salute. Dal Viale dei Tigli al Giardino dei Profumi, da Piazza delle Erbe a Via della Salute. Per tutto il Centro Storico Saludecio ospiterà per tre giorni, dal 25 aprile a domenica 27, eventi e spettacoli di teatro e musica di strada, spazio anche alle visite guidate, alla scoperta del borgo, due percorsi, quello artistico-religioso e quello ottocentesco. Aperte anche le mostre dedicate a Garibaldi e al Beato Amato Ronconi, prossimo alla santificazione. Anche i ristoranti, le botteghe e le locande di Saludecio proporranno menu golosi ma attenti alla salute. Il tema di quest'anno è tra cielo e terra. Si va dall'agricoltura biologica fino al discorso sul benessere, sulla spiritualità per arrivare al nordic walking, agli scout e quindi alle stesse camminate nel nostro territorio, insomma, sempre per un discorso salutare o di valorizzazione di quello che è il nostro territorio ma anche degli stessi musei mostre che possono essere visitati in queste giornate. I ristoratori, la stessa proloco che presentano, quelle che noi chiamiamo cibi e delizie verdi, quindi le possibilità di fare menu, assaggiare specialità con erbe aromatiche, verdure, eccetera, eccetera. Saranno tre giorni, speriamo, belli di sole. Ieri sulla spiaggia tra i piazzali Kennedy e Marvelli a Rimini si è conclusa la 24esima edizione del Paganello dopo quattro giorni di gare che hanno portato anche quest'anno a Rimini atleti da tutta Europa e non solo. Dagli organizzatori, dopo i dubbi espressi nei giorni scorsi, arrivano anche dichiarazioni incoraggianti per l'edizione del quarto di secolo. Davanti a 6.000 spettatori, secondo le stime degli organizzatori, nella finale della World Beach Ultimate Cup, una conferma per i britannici dell'Uti, campioni per il secondo anno di fila, che si sono imposti per 14 a 11 sul team internazionale di Gung Ho. Nella categoria junior, successo per i ragazzi di Casalecchio. Nella categoria mix, si impongono gli statunitensi Horn, Melons. Tra le donne, successo per le Super Hot Pot, squadra internazionale. Sempre ieri le finali del World Freestyle Challenge. Nel concorso Super Pro, successo per Fabio Sanna, terzo del riminese Claudio Clay Collera, che ha centrato il podio anche nel torneo co-op, in squadra con Manuel Cesari e Andrea Poli. E' un terzo posto, sempre per Collera, nella categoria Open Pairs, in coppia con Andrea Dini. Un'edizione che va agli archivi con la soddisfazione degli organizzatori della Cota e Tequila, già rivolti alla prossima edizione, quella del 25ennale, per la quale non si nascondono le difficoltà, espresse anche nei giorni del prepaganello, ma con uno spirito che nei quattro giorni di gara ha fatto scorte di fiducia. All right! Era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che potete continuare a seguirci sul sito di informazione newsrimini.it, ovviamente su Radio Icaro e sul canale 91. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. Buona serata.